Sono Simona Assuma, frequento la quinta CSU del Liceo delle Scienze Umane Tommaso Gulli. Io sono Giulio, ho 18 anni e frequento l'Istituto Tommaso Gulli e sono in quinta C. Come vi sentite in questo momento? Un po' tese. Ansia. Ansia totale? Ansia totale. Spiegami perché. Perché ho paura degli aghi. È importante superarle. Sono una ragazza di cuore. Vi seguiremo a bordo dell'autoemoteca dell'Avis per la vostra prima volta con la donazione. Ok. Basta che non riprendi mentre mi dice quanto peso. Tutte donne qua, uomini, niente. Giulia, un'ottima atleta, vita sana, regolare, una sportiva doc. È quello che dovrebbero fare tutti i donatori. Tutti i donatori. Grande Giulia. Non sarà niente, non sentire niente, come al solito, il mio motto. No, non ti faccio male. Quindi dobbiamo fare il video mentre mi zicca lago. No, no. Scusa, dirlo tu che è fantastico come lo dici. Mentre mi zicca lago. Una ragazza di Carrara che dice mentre mi zicca lago è fantastica. Dove l'ha imparata questa lingua? No, la si muove. Hai visto tutto qui, era Giulia. Ma boh, dai, non la posso ridonare. Ecco anche Simona. Amiche per la pelle. Mi preoccupata un po'. Un po' pieno. Sì. Però guardando la faccia di Giulia ti sei rasserenata. Non so. Sentirei solamente un pizzichino. Niente di più. La donazione durerà 5 minuti. Eh, tu sarei bene. Ok. Ok. Siedi dall'altro lato, non guardare. Sentito niente. Zero. Quindi com'è? Anzi. Tutte le stagioni di Gresanale. Sono servite a qualcosa? Sì, sono servite. Ecco. Cosa si fa per non saltare un giorno di scuola? Comunque brave. Non c'è niente da temere perché è una cosa normalissima. non si sente niente a livello di dolore, né niente. È un gesto utile. Donate. Si mangia anche bene dopo, quindi tranquilli. Bisogna donare perché fa bene agli altri. A chi ne ha bisogno. Quindi se una persona può è giusto che doni. Hai finito? Oh, finito. Subito? Sì, sì, hai visto? Stavo ci vorresti più. No. Dico la faccia della felicità. Pensavo peggio, non ho sentito assolutamente nulla, quindi può farlo chiunque, è proprio tranquillo. Pensavo molto peggio sicuramente di lei, comunque non è niente di che e se una personalità fa fastidio l'ago, basta che si gira dall'altra parte e non si sente nemmeno. Perché non si sente niente a posto. Noi l'abbiamo fatto e puoi farlo anche tu.